Si piazza ottantesimo su 104 il primo cittadino di Arezzo Alessandro Ghinelli nella classifica pubblicata dal sole 24 ore realizzata da IPR Marketing sul gradimento dei sindaci di capoluogo, posizione condivisa con altri 9 colleghi. Per quanto riguarda il gradimento tra gli arettini, Alessandro Ghinelli ha raccolto un consenso del 50%, leggermente inferiore al gradimento registrato al momento delle elezioni, quasi due anni fa, quando ottenne il 50,8% dei consensi. Quello misurato dal Governance Poll, però, va precisato, non è il consenso elettorale, ma il gradimento dei suoi cittadini in base ad una serie di parametri. Tra i sindaci della Toscana, il primo classificato è quello di Firenze e Dario Nardella, con il 61% dei consensi. Tra i primi 50 presenti anche Samuele Bertinelli e Alessandro Tabellini, sindaci rispettivamente, di Pistoia e Luca, con il 56,5%. Seguono Alessandro Volpi, sindaco di Massa, e Marco Filippeschi di Pisa, con il 55%. Alessandro Vivarelli Colonna per Grosseto, invece, si attesta al 54%. E subito dopo arriva Alessandro Ghinelli, a pari merito con Bruno Valentini, sindaco di Siena, con il 50% dei consensi. A chiudere la classifica toscana ci sono Filippo Nogarini, sindaco di Livorno, e Matteo Biffoni, primo cittadino di Prato. Ottimo piazzamento, invece, per il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, che tra i governatori si aggiudica il secondo posto, raccogliendo il 57% dei consensi.